La Basilicata non è una regione per bambini, è la constatazione del vicepresidente del Consiglio regionale Michele Napoli che commenta i dati di uno studio di cittadinanza attiva sui servizi di asili nido in Italia. In Basilicata, evidenzia Napoli, solo 11 bambini su 100 di età inferiore ai 3 anni è assicurato il servizio di asili nido che nella nostra regione fanno registrare anche costi più elevati di quelli che si registrano in media in Italia. Una grave carenza dei servizi educativi della prima infanzia dice che determina effetti negativi tanto sul tasso di natalità, particolarmente basso nella nostra regione, quanto sull'effettività degli strumenti di conciliazione delle esigenze della famiglia con quelle del lavoro. L'indagine di cittadinanza attiva comprende anche i servizi di mensa scolastica che in Basilicata comportano un costo a carico delle famiglie maggiore di quello medio nazionale. Al di là dei costi, chiosa Napoli, quello che destra maggiori preoccupazioni è la disparità tra le regioni nell'accessibilità a fondamentali servizi per i bambini e per le famiglie. Un gap che riprova l'incapacità in Basilicata di predisporre polisi di effettiva valorizzazione del capitale umano femminile.